25 dicembre 2020, ore 23, quarta parte. Il 23 gennaio facciamo una prova molto rapida, le posizioni sul palco, il cambio svelto dei miei costumi, un veloce ripasso delle battute e degli interminabili monologhi. Il giorno dopo ci sarebbe stata la prima delle due rappresentazioni. Il direttore del teatro mi disse che avrei potuto riempire due settimane intere, tanta era la gente che non aveva trovato posto. Fui molto sorpreso nel constatare che anche fuori Roma destavo interesse. Era la prima volta che mettevo piede da regista e attore in un'altra regione, in un teatro così prestigioso. Mi arrivò la notizia che la platea sarebbe stata piena di artisti che papà conosceva bene, pittori, scultori, scrittori. Tutti di Siena. Mi assalì un certo timore quando il direttore mi disse «Ho molta fiducia in lei, qui il pubblico è assai esigente e severo, e non si aspetti le risate fragorose di Roma, perché qui la gente si diverte in modo più contenuto». «Annamo bene», pensai. Il nervosismo cominciava a montare. Quella notte dormì malissimo, anche perché le strade strette del centro di Siena fanno da cassa di risonanza le voci dei passanti, spesso ragazzi che tornano a casa alle ore piccole. E c'è da aggiungere che in città quasi tutti parlano a volume molto alto. È l'eredità degli incessanti cori di Contrada. Alle sette di sera del 24 gennaio ero pronto per andare in teatro. Prima che uscissi, arrivò la telefonata dei miei genitori e quella di mia moglie Gianna, che mi avrebbe raggiunto il giorno dopo per la seconda e ultima replica. Mi incoraggiarono a dare il massimo e erano a non aver paura, e mio padre, che in quei giorni era malato, mi disse queste parole che ricordo perfettamente. «Vai, figlio mio, omaggio alla mia città con un gran spettacolo. Fallo come non l'hai mai fatto. Fammi questo regalo, conquista Siena». Anche se è dura da espugnare, si fece una risata e mi salutò con amore. «Con la mia valigetta, piena delle solite fregnacce che portavo sempre con me, il giubbotto, la sciarpa e un cappelletto alla John Lennon, attraversai via Franciosa, passai davanti al Battistero e imboccai via dei Pellegrini. Davanti a me l'incantevole piazza del campo, con il teatro all'interno del palazzo comunale. Non c'era nessuno per le strade, tanto era il freddo, e un vento tagliente e gelido mi faceva lacrimare gli occhi. Ero assai teso, preoccupato di risultare troppo romano, nonostante molte interpretazioni fossero prive di accento romanesco. Come tutti gli attori del mondo, avevo il solito terrore di dimenticare qualche battuta. Prima di entrare, mi fumai due sigarette, una dietro l'altra, nella speranza di calmarmi un po'. Il risultato fu una corsa al gabinetto, che raggiunsi di pelo pelo, ma ero occupato dal mio attore Pierluigi Ferrari. Disperato, mi precipitai verso quello delle donne, e dentro c'era Diana Day, l'altra mia compagna. Sembrava che stesse per debuttare la compagnia dello scagaccio. Mancavano venti minuti all'inizio. Preso dalla curiosità, scostai un angolo del sipario per scrutare la platea. Molti giovani, volte austeri e volte di gente semplice, il sindaco Barzanti, il mecenate notaio Giovanni Guiso, amico dei reali d'Inghilterra. Lancio uno sguardo verso un palco, e chi ti vedo? L'amico Umberto Smaila, che viveva nella vicina Rapolano, venuto con la famiglia insieme a mio fratello Luca. Nel vedere Umberto, mi rilassai di botto. Avevamo passato insieme tanti mesi a Torino per le registrazioni di Non Stop, e mi ricordai di tutti gli incoraggiamenti ricevuti da lui in quel periodo. Era stato il primo a credere in me. Non faceva altro che dirmi «Fai grandi teatri, piantala con le cantine, hai le carte in regola, fidati!» Lui, che era venuto apposta per applaudirmi, meritava qualcosa di speciale. Poi riecheggiarono nella mia mente le parole di mio padre. «Omaggio alla mia città con un gran spettacolo!» Mi caricai sempre di più e giurai a me stesso che quello sarebbe stato lo spettacolo perfetto. Mi isolai per dieci minuti in camerino, pronto ad entrare in scena come un riff potente di Jimmy Page delle Zeppelin. E così fu. Quella sera avevo una mimica impeccabile, tempi recitativi e pieni di variazioni spettricolate e una padronanza assoluta del palcoscenico. Sentivo che stavo facendo quello che non avevo mai fatto. Il primo tempo finì con un applauso interminabile. Mi mancava il secondo, più complesso, per via dei lunghi monologhi, ma ormai avevo il pubblico con me. Durante l'interpretazione di una vecchia cantante lirica che dai suoi racconti si rivelava essere stata una gran mignotta, mi concessi di andare a braccio per ben dieci minuti. Un'improvvisazione che mandò i miei due attori nel pallone e il pubblico invisibilio. Quella sera finalmente decretai e i miei attori lo confermarono che mi avevo mai avevo recitato in modo così intenso e vigoroso. Era stato davvero lo spettacolo perfetto, quello che non mi era mai riuscito prima. Avevo mantenuto la promessa fatta a mio padre. Mi vennero tutti a salutare in camerino, coprendomi di elogi. Quando vidi Umberto lo abbracciai e gli sussurrai in un orecchio «Ti ho visto! E te l'ho dedicato!» Entrambi vennero gli occhi lucidi, ricordando il bel periodo a Torino. «Se' stato incredibile da capolavoro!» mi disse lui e aggiunse parole meravigliose che mi colpirono nel profondo. Ormai il teatro era vuoto e i miei attori erano rientrati in hotel con un taxi. Io ero solo in camerino, ancora frastornato ma felice. Avevo bisogno di silenzio. Tutta quell'energia mi aveva stroncato. Piano piano chiusi la mia valigetta, mi asciugai di nuovo la fronte e il collo, infilai il giaccone, poi il cappellino e salutai il custode del teatro. «Avrà una bella sorpresa quando uscirà», mi disse. Gli sorrisi. Mi aspettavo qualche gruppo di fan in cerca di un autografo. «Faccia attenzione», aggiunse. Non capivo a cosa dovessi fare attenzione e uscì pieno di curiosità dal teatro. Rimasi senza fiato. Davanti a me apparve forse l'immagine più bella, poetica e struggente che avessi mai visto nella mia vita. Piazza del Campo era completamente imbiancata dalla neve. Rimasi immobile, ipnotizzato da quella meraviglia. Non c'era nessuno. Solo io in quella piazza ritenuta a ragione tra le più belle del mondo. Quello spazio così autorevole, sorvegliato dall'alta torre del Mangia, mostrava un altro aspetto, la grazia, la delicatezza, un candore sconosciuto a chi ci vede solo la cornice di una furiosa corsa di cavalli, il teatro della più grande esplosione di colori, bandiere e tamburi marziali. I fiocchi di neve mi sembravano le parole del silenzio, il silenzio che cade nel silenzio. Era come se la città avesse potuto farmi un regalo, come se pretendesse anche lei un applauso. Anche Siena quella sera aveva fatto lo spettacolo perfetto, si era messa in competizione e forse, forse aveva vinto. Non a caso mio padre mi aveva detto conquista Siena anche se dura da espugnare. Tornai lentamente a casa stanco e felice. Ogni tanto mi voltavo indietro per ammirare quella piazza altre dieci, venti, trenta volte mentre me la lasciavo alle spalle. Fu la notte più emozionante della mia vita per quello che avevo fatto e per quello che Siena aveva fatto per me.